Allora prendete posto che stiamo per cominciare con un po' come dire di ritardo accademico mentre Petunia Hollister scatta l'ultima fotografia prima che si cominci. Allora noi siamo veramente felici che questa primavera torinese che ha scandito una serie di tappe intermedie che poi arrivano fra qualche giorno al Salone del Libro e sia i culmini con l'arrivo di Ben Lerner qui alla scuola Holden che tra l'altro è stata ed è così vicino al Salone del Libro. Questa è, non credo che sia la prima volta che Ben venga in Italia ma la prima volta che viene in Italia come autore dopo appunto che abbiamo imparato a conoscere e amare i suoi libri soprattutto dopo nel mondo avvenire, tra l'altro è uscito da poco odiare la poesia che è un saggio breve insomma di Ben Lerner sulla poesia, bene anche poeta anche se le sue poesie non sono ancora pubblicate in Italia. Io oggi appunto chiacchiererà con Martino Gozzi io dirò soltanto che appunto nel mondo avvenire tra le tante cose che è stato tra l'altro uno dei romanzi che ci ha fatto capire in quale direzione può andare la narrativa statunitense all'inizio del ventunesimo secolo ed è anche un libro, questo dico come piccola considerazione personale, uno dei libri sulla percezione del tempo nel ventunesimo secolo più interessanti che io abbia letto ultimamente. Quindi insomma passo subito il microfono a Martino e a Ben Lerner e insomma godetevela tutta. Grazie. Grazie Nicola, grazie di nuovo al Salone del Libro, grazie anche a Sellerio che ha partecipato all'organizzazione di questo incontro e devo dire oggi piove ma è stata una bellissima primavera torinese. Io farei un altro applauso anche solo per Nicola che è stato un grande direttore. Qui accanto a me c'è Ben Lerner, gli do anch'io il benvenuto e vi confesso un po' di, come al solito in questi casi, emozione. Ben Lerner è molto amato qui nella scuola, tanto per darvi un esempio vedo qui in prima fila i due componenti di una start-up nata qui alla scuola Holden, sono due nostri diplomati che hanno deciso di creare un'impresa, la scuola ci ha creduto e questa piccola start-up prende il nome dal titolo originale del libro di cui parlava adesso Nicola, Nel mondo a venire, in inglese è 10.04 e quando l'ho raccontato un attimo fa a Ben lui mi ha detto benissimo, allora vorrei avere anche io una fetta dei profitti, d'americano. Io stesso sono un suo lettore della prima ora e mi trovo adesso un po' in difficoltà perché è difficile definire i libri, la narrativa, la scrittura di Ben Lerner e pensandoci in questi giorni sono arrivato a questa conclusione che Ben Lerner, e lo dico per chi di voi non l'ha ancora letto, è un autore di fantascienza non una fantascienza esteriore con i cloni, le astronavi, gli alieni, i pianeti lontani ma una fantascienza interiore, una sorta di tensione verso un futuro in cui le categorie kantiane di spazio e tempo vengono distorte e in cui l'io, il mondo e il nostro modo di percepire il mondo vengono come infilati in una sorta di acceleratore di esperienze leggere Ben Lerner produce questa strana sensazione, questa illusione ottica come se fossimo già nel futuro e stessimo usando altre aree del nostro cervello e potessimo godere della realtà, attraversarla non percependo soltanto due o tre o quattro dimensioni ma sette, otto, nove o dieci è molto difficile definire la sua scrittura anche perché è un ibrido un continuo mescolare, prosa, fiction, poesia, autobiografia, saggistica ed è un continuo ribaltare le aspettative del lettore ad ogni pagina noi ci aspettiamo uno snodo di trama ci aspettiamo che finalmente il libro parta che finalmente il capitolo si chiuda e invece Ben Lerner in qualche modo ribalta le nostre aspettative e quindi qui arrivo subito alla mia prima domanda voglio chiedere a Ben se lui sa quando comincia a scrivere che cosa sta scrivendo e se non lo sa quando lo capisce grazie mille per aver guardato questo è un'incredibile scuola non abbiamo nulla come questo in gli U.S. e sono honne di essere qui e sono molto honne di essere pubblicato da Solerio e sono felice di poter parlare con voi grazie a tutti do I know what I'm going to write no I mean I have a I often have a territory of concern but I feel like kind of the best and worst thing about writing is you have to discover what's sayable in the act of composition you know Tolstoi has this thing about Vronsky like rushing home to see what Vronsky would do next like the idea that the plot or the language is pulling him forward in the process of composition that it's beyond his control and I feel some of that when I'm writing Grazie, grazie per l'invito che mi è stato esteso è un vero piacere poter essere in questa scuola questa scuola che è qualcosa di è un unicum non abbiamo qualcosa di questo tipo neanche negli Stati Uniti d'America quindi sono molto onorato di essere qui e anche di poter essere pubblicato da Solerio e sono anche molto onorato di poter parlare di fronte a tutti voi che cosa scrivo la domanda quindi so che cosa scriverò la risposta è no non so esattamente quello scriverò ho un'idea ho un territorio nel cui vagare insomma però come viene detto molto spesso insomma sono cose che io scoprirò poi dopo con l'andare della scrittura e questo è quello che viene definito in questo tipo di processi so for example I often get asked when I started a novel like how long did it take you to write a novel and it's actually a very complicated question because like in 1004 I wrote the poem that's in the middle of the book before I wrote the novel and I had no imagination that it was ever going to exist in a novel and then I wrote a piece of art criticism about a Polish artist who I admire and I had no sense of that non-fiction having any relation to the poem or anything else and then there were other elements of it that I had written in advance of having an intuition of the form of the novel and then the novel became kind of building a frame around these different genres so there's a way in which the novel for me is a way of kind of constellating other material that I might have written in a totally distinct time so there's a sense in which the novel took me is this ok? sorry there's a sense in which the novel took me two years and there's a sense in which it took you know seven years depending upon how you date the materials well for example I can tell you how long we need to write a novel this is a question that I often get asked just at the beginning and for example I can tell you that in the writing of the world I have already composed the poetry that is located inside the novel before I write a novel and then after I never thought of writing a novel around this poetry it's happened so that I have seen simply a critique of art to a Polish artist and this has created inspiration and so I never thought that the narrative could make a sense in some way that a cornice to this poetry and so it's been and this is what I have conceived in this novel because it was for me the creation of a cornice of a picture around the poetry and this is the sense that there is within this novel and so that the writing of a novel that dura two years or seven years for example depends on the material that should be treated I don't want to give you the idea that it is a a difficult read or difficult that it is to return back it is all very nice in reality it is very natural for this it seems to be in a future in which we can think more quickly in directions different and this last book that has brought Ben here in Italy Oddiare la poesia is to use an expression traditional it is a saggio it is a a brief saggio on the poesia on the reception of the poesia that opens with a sort of confession and Ben tells to have had to choose the first of the superiors if I don't remember the poesia to send to memory in the inciso before passing to the narrative Ben Lerner has won the prize and has imposed to the public estadounidense by publishing poetry by publishing three copies of the poetry well at the beginning of the superior the teacher asks to learn to learn poesia memoria e lui va in biblioteca e si fa dare dalla bibliotecaria la poesia più breve che esista e la poesia è questa ve la leggo perché poi da qui parte tutta la sua riflessione si intitola La poesia e l'autrice è Marianne Moore è un testo del 67 neanche a me piace a leggerla però con totale disprezzo vi si scopre dopo tutto uno spazio per l'autentico questo primo verso neanche a me piace che in inglese è I too dislike it diventa un tormentone all'interno di questo saggio e a proposito di questo continuo ribaltamento delle aspettative del lettore io quando ho cominciato a leggere mi sono immaginato che prima o poi arrivasse invece una grande difesa appassionata brillante della poesia da un autore che è prima di tutto un poeta e invece questa difesa non arriva mai neanche a te piace quindi la disapointment in poesie io anche disloco poesie è un elemento del progetto e è un signo di importanza in quanto a rispetto a dispare dell'arte beh in realtà io la vedo un po' come una difesa a un certo punto una difesa di un'arte della poesia in quanto arte proprio per il senso che ha questo tipo di arte perché per me la poesia deve essere difesa perché bisogna capire che la poesia rappresenta anche l'impossibilità umana di rappresentare la poesia come quella che si è concepita quello che si voleva concepire e scrivere e anche il desiderio di capire che non è possibile proprio realizzare la poesia che si era già pensato di avere quando si voleva scrivere e quindi a un certo punto io penso che questo tipo di disprezzo questo tipo di mancanza di piacere nei confronti della poesia faccia parte intrinseca del processo di apprezzamento della poesia e quindi è un sintomo stesso un sintomo di quello che può essere questo gap come dicevo tra la poesia che si vuole scrivere e quella che in effetti si riesce a scrivere se io devo dire che anch'io non amo la poesia quindi vuol dire che anch'io faccio parte di questo processo inevitabile che si ha nel trattare la poesia alternativi al status quo se questo fa sentido quindi il mio amore per la poesia può essere un space per immaginare alternativi alternativi all'interno reale la forma che fa è fallare ma fallare in una modo che può configurare possibilità che non realizzate tra le poesie e le poesie ma la poesia può essere intesa in molte maniere può essere vista in diverse prospettive perché in realtà come sappiamo e come possiamo anche capire sono molte più le persone che non amano che detestano la poesia rispetto alle persone che amano la poesia in qualche modo perché la poesia ci dà la possibilità di desiderare una realtà alternativa una realtà che però non è tangibile non è una realtà che possiamo veramente avere intorno a noi la poesia se vogliamo scrivere una poesia sul capitalismo il commercialismo il militarismo tutto questo noi è quello che stiamo pensando ma alla fine poi dopo non riusciremo forse a raggiungere questa idea trascendente perché è proprio impossibile farlo quindi la poesia però ha il merito di lasciarci a meno la possibilità di rimanere in contatto con questa realtà questi desideri che non riusciamo poi a realizzare però io amo la poesia diciamo perché è un'alternativa alla realtà vera e propria e lo capisco perché proprio la poesia fallisce nel suo tentativo di metterci in contatto con quello che è la nostra idea della realtà che desideriamo avere sì è sicuramente una difesa della poesia nella misura in cui leggendolo vedrete vi verrà una gran voglia di leggere poesia leggendo questo saggio perché di tanto in tanto Ben cita grandi autori più o meno noti Keats Whitman Dickinson ma anche autori contemporanei e bastano alcuni versi basta una una strofa per avere un come dire un rapido sguardo su quella che può essere la poesia ideale e in questo sicuramente il libro è efficace nel mondo a venire tu a un certo punto citi la celebre affermazione della poeta Shelley che diceva che i poeti sono forse i non riconosciuti legislatori del mondo tu pensi davvero questo e cioè che poi il potere la capacità dei poeti di creare una comunità attraverso la transpersonalità della prosodia credi che siano in grado di influenzare così tanto gli eventi del mondo oppure i poeti sono solo i non riconosciuti poeti del mondo empirico per i poeti che possono accomplirsi ma posso dire che se non c'erano questo spazio per l'immaginazione chiamata la poesia se non c'erano questo teatro per mettere la più pressione possibile sulla lingua sarebbe un mondo in cui non voglio vivere quindi questa è un modo negativo di figurare anche credo che ci sono più positive di rispondere che possiamo parlare se devo pensare alla poesia voglio dirvi come forse descrivevo nel mio primo romanzo per il poeta bisogna capire se lui riesce a trovare soddisfazione attraverso le sue proprie poesie e come diceva Jory Ashbery quindi intendo che se ci fosse un mondo senza poesie non sarebbe forse immaginabile un mondo senza poesie sarebbe un mondo dove sarebbe difficile la comunicazione dove l'abilità linguistica non sarebbe nemmeno presa in considerazione ci sarebbe un trionfo delle forze negative e io in questo tipo di mondo non ci voglio abitare certo questa è una spiegazione che parte da un presupposto negativo per spiegare i meriti della poesia forse bisognerebbe poi analizzare quale potrebbe essere un merito positivo della poesia attraverso appunto una prospettiva positiva questo è quello che posso dirvi non so se l'avete capito poi possiamo naturalmente passare anche a capire quale può essere una prospettiva positiva per capire quale è il merito della poesia un poesia un poesia un poesia o un writer di un poesia ma particolare un poesia è che che cosa ha la marginalizzazione di poesia di un 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 poesia che si tratta di un poesia 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 che in realtà ha solo una misura di un poesia che è il prezzo e quindi una domanda che viene spesso posta ai poeti ma anche agli scrittori ma soprattutto ai poeti è quella della marginalità della poesia cioè quindi l'importanza che può avere la poesia cioè quindi questa relativa marginalità della poesia all'interno della società odierna contemporanea e questo è un problema molto importante perché attraverso tutte queste nostre pratiche marginali che abbiamo tutti gli eventi che ci sono intorno a noi tutto quello che può essere gli elementi che ci sono attorno alla nostra vita come non so ad esempio anche non so magari l'amministrazione di Trump tutto quello che succede anche all'interno della sua amministrazione nazista di Trump come viene definita beh tutto questo in realtà certo noi lo percepiamo ma ci dà anche un significato proprio alla nostra vita ci dà la nostra capacità di capire e quindi questo ci dà almeno un punto di riferimento un valore a cui possiamo appigliarci perché altrimenti l'unico valore l'unico fattore sarebbe il prezzo a proposito di queste pratiche marginali come appunto la poesia o l'arte tu hai scritto molto di arte contemporanea e ne hai esplorato i paradossi in modo molto divertente nel mondo a venire c'è un artista che si interessa alle opere danneggiate che quindi le compagnie assicurative hanno ritenuto non essere più opere d'arte ma oggetti che non hanno più quel tipo di valore in un racconto che hai pubblicato di recente su New Yorker accosti due tele di una pittrice contemporanea a il fenomeno di Uber perché quest'artista le perde su una macchina e non riesce più a recuperarle in un altro saggio che ho letto invece di recente esplori le tecniche di conservazione che vengono applicate al Whitney Museum su opere che però sono destinate a essere effimere cioè a essere poi superate da ulteriori prototipi più avanzati come riesci a navigare questo mondo cioè oltre a quello della poesia quello dell'arte e cos'è che ti è chiaro che lì trovi il senso della vita ma qual è il tuo interesse di autore verso questi verso queste pratiche marginali di un'art di un'art in particolare di un'art in particolare di un'art perché io voglio voglio perché perché l'art oltre a la bisogno di un'art alternativa di un'art lo stiamo intrusse l'art world as a gallery system and there are many different art worlds but the art world is a phenomena is that desire to imagine alternative standards of value combines with the crassest capitalism imaginable where the super rich are parking surplus capital in these objects so I'm really interested in the contradictions that arise between artworks which which serious artworks which want to be bearers of alterity to the dominant economy and then the fact that they get commodified and traded on an international art market and those problems and the contradictions that arise are in a way the contradictions that all of us experience of wanting to imagine forms of value that aren't dominated by profit but also functioning in a society in which that is the most available mode of value so I think it's an extreme often funny often depressing sometimes beautiful sight for the contradictions between between money and other imaginations of value forse per rispondere a questa domanda vorrei ricollegarmi a quello che stavo menzionando precedentemente quindi forse vorrei aggiungere dicendo che l'arte rappresenta sempre in qualche maniera una crisi di valori una crisi aperta di valori tutta l'arte che abbiamo attorno ci propone una maniera diversa un'alternativa all'arte precedente quindi non so se vediamo una sperimentazione a livello musicale magari ci propongono dei suoni che vengono trasformati in musica quindi ci fanno immaginare che questi suoni sono diventati musica quello che prima erano semplicemente suoni quindi l'arte anche se a volte è critica ci permette sempre di pensare a differenti standard di valori e questo è importante perché l'arte ci fa immaginare dei valori che sono diversi i valori che a volte possono essere anche contraddittori tra di loro pensiamo ad esempio all'arte in quanto tipo particolare di valore che contrapposta ad esempio al capitalismo cioè queste persone ricchissime che possono permettersi di comprare degli oggetti di valore oggetti di arte questa è proprio una contraddizione che c'è in sé intrinseca all'arte stessa e che si rifà forse anche alla nostra vita normale e quindi abbiamo l'arte da una parte in quanto oggetti di arte e il mercato dell'arte dell'altra parte e quindi questo problema è proprio la contraddizione che c'è innata dentro l'arte e riflette come dicevo un po' anche tutta la nostra vita la vita nostra che si deve anche di trovare una soluzione tra quello che è il profitto cioè l'utile, il denaro e i valori della nostra società e quindi questo può essere anche una contraddizione a volte diciamo divertente a volte che ci porta alla depressione a volte che ci fa pensare alla bellezza che c'è questa contraddizione che dicevo appunto tra il denaro e i valori stessi I also think the novel is like the greatest curatorial form like the novel is a form in which you can dramatize encounters with other works of art but like other you know sometimes I write more conventional art criticism but in conventional art criticism you kind of take the work out of time you pretend it's all the same you describe it the way you think anybody would encounter it and in the novel you get to put in all these contradictions right like you get to you get to you say what's circulating in a character's brain or blood when he is looking at a painting if he's just had his heart broken if he passed a protest on the way to the museum so you get to let in all these social issues on a personal and a collective scale you get to integrate them into a description of a work of art so I think the novel I think you said surfing I think the novel is a really great way you know to form to form a constellation or to curate encounters with works of art and I think that's like both what's exciting about the novel now and in certain regards a really traditional function of the novel and one thing that links the novel with other artistic practices like filmmaking or curation or whatever all'interno di un romanzo invece possiamo invece riproporre questa contraddizione di cui facevo menzione precedentemente perché il personaggio del romanzo potrà pensare con il sangue delle proprie vene oppure con i pensieri del proprio cervello quello che vuole perché fa parte di un romanzo quindi potrà in un certo modo anche esercitare una critica sociale elevare forse a un momento particolare anche le tematiche sociali fino ad una scala collettiva all'interno del romanzo forse tu dicevi prima come stavo navigando in questo settore appunto possiamo dire che il romanzo ci permette di trovare un incontro una costellazione quindi un incontro particolare con l'arte e questa forse è una delle funzioni principali che può avere il romanzo ecco in questo territorio che tu descrivi cioè il romanzo noi incontriamo un narratore che ci parla che spesso non ha un nome se non ricordo male in un uomo di passaggio si chiamava si chiamava Adam Gordon in altri testi si chiama Ben Lerner e questo Ben Lerner è il tuo alter ego in qualche modo e allo stesso tempo un costrutto fittizio e mi chiedo in questo rapporto tra l'arte e la vita qual è la posizione che tu vorresti che il lettore tenesse se vuoi che metta in dubbio la verossimiglianza di quello che racconti o se non si ponga proprio il problema e si faccia accompagnare da te in queste esplorazioni in queste contraddizioni a canne fire do I have to get that's an old question for the novel and the narrator of my novel has a version of that he wants to know kind of like what would what would it mean to really have a profound experience of art is that possible can I have it so since the novel is so obsessed with the question of fraudulence I thought it would be interesting to blur the boundary between the character and the historical author me to kind of add another level of undecidability to the relationship between the authentic and the the fraudulent so that's what the first the first novel Nel primo romanzo la cosa principale è capire qual è l'esperienza profonda capire cos'è la vera e propria esperienza il protagonista lo vediamo appunto che è ossessionato appunto dal capire se lui fa parte veramente della storia se è partecipato alla guerra e capire esattamente cos'è una esperienza profonda ed è questo che io all'interno del romanzo ho voluto mettere in questione cioè cercare di capire e cercare di eliminare i confini che ci sono tra il romanzo stesso e l'autenticità del romanzo stesso and in the second novel I'm really obsessed with the way that fact becomes fiction and then fiction you know the stories we tell become facts in our life and again I thought that that theme would be made more interesting if the boundary between art and life on the plane of authorship was also complicated so it's not like I have this position that this is how people should write it's that for me the themes that I was interested in exploring kind of demanded the blurriness of the boundary between art and life which is also you know like the oldest but you know people describe that as postmodern but that's kind of like in the Quixote on you know it's a really traditional concern of the novel and then in the second I try to explore how in reality the facts can become narrative and then how in the narrative can return life and this is something very interesting I've always tried to as you know in these two romances I've always try to 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 sfocare i confini che ci sono tra l'arte e la vita stessa forse possono definire questo tipo di scrittura forse postmodern ma in realtà io penso che questa sia una tematica che ci accompagna sin dalla scrittura classica sì questo sfocare i confini e mettere il nome dell'autore stesso dentro la narrazione in Italia negli ultimi anni è stato definito con un'etichetta autofiction e di recente ne parlavo proprio con Nicola e ci chiedevamo e adesso lo chiedo anche a te se questa frontiera questa modalità che per carità ha radici profonde ma ha trovato una nuova definizione non sia la risposta migliore della narrativa della letteratura in un momento in cui sembra che le narrazioni che più ci coinvolgono sono invece quelle seriali sono quelle che seguiamo in televisione quindi narrazioni ad archi lunghi con infiniti sviluppi possibili dei protagonisti e con un plot un intreccio molto complesso mi chiedo se questo territorio del romanzo e del romanzo inteso come autofiction secondo te possa essere una via di uscita per la letteratura escape from what from the serial drama plotty you mean can fiction do something that these other media can't well find another way yeah I mean fiction is really good at depicting interiority you know and it's really good at depicting the disconnect sometimes comic and sometimes tragic between what's going on in our head and and our interaction with the social world and that to me is part of the theme of the theme of the novel and so one of the things of any novel and so one of the things that's interesting about autofiction or whatever you call it is it it's not that it's not that it brings the real self into fiction it's that it emphasizes the degree to which every self is a fictional construction and and so I think that the novel because it can it can I mean film great actors can do this but the novel is very good at narrating from the inside the way that the face is presented to the social the way that you try to you try to construct an identity for others I think other media can do that I think the novel is really really good at it and maybe you know sorry I should stop well I think I think I think the narrative is very positive to be able to analyze our interior to be able to in second second to be able to try to connect to what can be our thoughts that can be sometimes divert and sometimes sometimes tragically and also to promote the interaction with the world that is around and one interesting that I find all'interno of fiction that I find in this out of fiction is not so much forse to insert yourself into the narrative but that every self is in some kind of a narrative construction and this is very important because it can allow us to to society because we dobbiamo cercare di essere un esempio verso gli altri e penso che questa sia una funzione importante del romanzo there's also I mean this is kind of obliquely related to what you're saying but there's a way in which like when you think about the relationship of the novel to other technologies right or other kinds of media a lot of people feel like the novel needs to try to be like a movie or like the internet or whatever right that the role of the novel is to try that an avant-garde novel should actually be like these other technologies but the strength of the novel as a pretty old medium is how good it is at depicting the emergence of new technologies and the way they alter the structure of our experience right so like for me when Proust describes the first time he speaks on the telephone or the first time he sees an airplane or what the motor car does to his experience of the scenery. right that that that's an he doesn't try to make the novel a telephone or an airplane or a motor car what he's doing is using the the robust descriptive powers of narration to capture what it feels like when a technology emerges that changes your sensorium. right so I tend less to think about a rivalry between media and more to think about the way that the novel is a really good technology in depicting these changes in experience. right so. right so. yeah and then I would like to mention this one, and I would like to mention it also very soon right so. thank you very much for that I would like to mention that I would like to talk about the difference between the scenes and other kinds of media and the scenes, my opinion, this is what I'm asking about. it is when I was asking for that at the end of the scene, I was asking about what I was asking for. ma io non sono di questo avviso perché penso che il romanzo abbia tutta un'altra forza, un'altra forza immaginativa, se penso ad esempio a Proust quando descriveva la prima volta che utilizzava il telefono oppure l'aeroplano, quindi quando descrive il paesaggio che vede proprio da questo mezzo, quindi vedo una forza narrativa molto più profonda, e quindi questo non era un romanzo che scriveva in merito al telefono oppure all'aereo, no, in realtà era un romanzo con il quale lui mostrava la sua forza, metteva in mostra la sua forza narrativa di quello che veniva percepito dal suo potere sensoriale, dai propri sensi, quindi il romanzo in questo senso è molto forte nella sua capacità di descrivere i cambiamenti e le esperienze. Ok ti faccio le ultime due domande poi lascerei spazio alle domande invece del pubblico, la prima è questa, all'inizio dell'anno è morto se non sbaglio a 90 anni John Berger, scrittore, saggista, pittore, romanziere inglese che da tempo viveva in Francia, e tu hai un rapporto speciale con lui e credo che anche i tuoi libri ce l'abbiano, no, e ti volevo chiedere di parlarcene. Yeah, I mean, I didn't know John well, I only got to visit him once, but his work mattered to me immensely. So, he was a Marxist, he was a materialist, right, but he was a materialist who believed that materialism meant really caring about the sensual world. It meant, it didn't mean reducing artworks to just examples of, you know, the corruption of the bourgeoisie or whatever. It meant actually really attending carefully to surfaces, it meant caring about sex and desire. He was like a sensualist materialist, and so for me it was a way of imagining a commitment, a political commitment to making art that had a place for pleasure, right? Because without pleasure, I mean, what's the point? So, that kind of sensualist materialism really mattered, and then just as a writer, I mean, you know, some of his books I really love, some I don't get so well, but as a writer, he was an example of someone who could create intermedia works, who could put poems in his novels, who could work with images, who worked with translation, who used fiction as a mode of the essay, in addition to writing really beautiful essays. It just, it had a rigor, but it also had a generosity and an openness that I really associate with his personality, too. Yeah, he was kind of a hero of mine. Have you read his Booker speech when he won the Booker Prize? It's not the genre of... Sorry, I'm forgetting that I have to be translated. Non conoscevo John così bene, in realtà, gli ho fatto visita solo una volta, però conoscevo molto bene il suo lavoro ed era molto importante, era di un'importanza fondamentale per me il suo lavoro. Lui era un marxista, era un materialista, era però diverso, un marxista ed un materialista diverso, appunto perché era più dedicato al mondo sensoriale, perché l'arte per lui non era un esempio della corruzione, della borghesia, ma c'erano anche altri fattori molto importanti, quelli che potevano essere il sesso, il desiderio, o proprio questo mondo sensoriale. Era un materialismo sensoriale più che altro quello che lui voleva descrivere con le sue opere e altresì possiamo dire che il suo impegno politico è stato di fondamentale importanza perché all'interno del suo impegno politico trovava spazio anche il piacere, perché senza il piacere che senso può avere tutto? E invece in quanto scrittore, sì, alcuni suoi libri mi sono piaciuti, altri forse un po' meno, insomma, però dobbiamo riconoscere che il suo lavoro è un lavoro intermedia, quindi che ha intrecciato diversi tipi di media, di mezzi, perché all'interno delle sue opere c'erano traduzioni, c'erano poesie, c'erano delle immagini, faceva utilizzo anche della narrativa all'interno dei saggi, narrativa in quanto saggio, e quindi tutto questo tipo di lavoro veniva definito, o viene definito da me, come un tipo di generosità che si poteva ritrovare anche all'interno della sua persona. The Booker Prize? Ricollegandoci a precedentemente quello che abbiamo detto, non so se avete mai sentito, avete letto forse il discorso, che ha tenuto quando ha vinto il Booker Prize, normalmente questi tipi di discorsi sono abbastanza noiosi, sapete, durante le cerimonie del Booker Prize, però quando lui ha ricevuto il Booker Prize, penso negli anni 50, credo, ha tenuto un discorso che era veramente eccezionale, ha stupito tutti, perché in questo suo discorso lui cercava di rintracciare, di tracciare in realtà il denaro che veniva utilizzato dal Booker Prize, dall'organizzazione per questi premi, quindi aveva scoperto che questo denaro veniva da uno sfruttamento all'interno dei Caraibi, e quindi decise a questo punto di dover tenere metà del denaro, invece l'altra metà del denaro devolverla e quindi questo fu un grande scandalo. Ok, la mia ultima domanda, il tuo libro Nel mondo a venire ha, l'abbiamo detto prima, come titolo originale 10.04, e questo è un riferimento a più cose, ma tra queste cose c'è Ritorno al Futuro. Noi siamo quasi coetanei, siamo cresciuti su continenti diversi, ma anch'io sono stato profondamente segnato da quel film, e a proposito del superamento del conflitto tra le arti, raccontaci che cosa ha significato per te Ritorno al Futuro. Oh, it's a crazy movie, I mean, let's just say what the movie is about, right? The movie is about, I mean, the movie is a great ideological solution to the problem of white appropriation, because they send Michael J. Fox into the past so he can invent rock and roll, right? And it's an oedipal drama where his mom keeps trying to sleep with him. I mean, it's like Greek myth, and he has to avoid her advances in order to get born. And, yeah, I mean, we start there. Beh, sicuramente quel film, Il Ritorno al Futuro, è pazzesco, è incredibile, perché per me rappresenta un ideale sociale, quello che rappresenta in realtà quello che è l'ideale sociale, quello che non doveva essere l'appropriamento bianco, cioè quindi dei bianchi di certi valori, di certe proprietà, perché vedete nel film Michael J. Fox viene rispedito nel passato e lui deve cercare di evitare alcuni progressi, progressi scientifici, per poter poi nascere. But, yeah, I mean, the 80s, it was an interesting, so, it's amazing to me to think, we're about the same age, that the, you know, the 80s are as far from us now as the 50s were from the 80s, right? And Back to the Future is the 80s imagination of the parents' generation. It's the 80s imagination of the 50s. And now, Back to the Future is the imagination of our 50s, you know, our 1950s. So, there's a way in which it, in representing the 80s, kind of memory, it's come to stand. It's a movie that makes me feel old in a very interesting way, you know. So, it's a kind of watershed in these different imaginations, these kind of different moments in the American imaginary. Yes, but let's say it's a film of the 80s, so, if I think of that film, in short, we are more or less of the same age, so, I think I can say that the 80s have inspired us now, our period, as for example, the 50s have inspired the 80s, 30 years ago or more. And then, insomma, the 80s have been what was imagined in the 50s. And so, this film is important because it represents a bit of what we were, a bit of a spark of the time, of what was the American society. It makes me feel a bit old, a bit old for different sensations that I can try. But it's also a movie about the fragility of the future, you know, which was not a very American idea in the 80s. when there was the sense that just, like, the empire had won, right? Because there's the great, there's the really powerful image of fading from a photograph, right? Like, where he has the photograph of the future, and he keeps fading from it. So, it was also a movie shot through with anxiety about the degree to which our futures were under our control, and there was an intuition that it required a more robust relationship to the past, you know? even though it offered a really perverted relationship to the past. That's great. But it's also a movie that makes you feel the fragility of the future. It's a fragility that is seen in a very clear way with this photo that svanishes, the photo that has in hand, that svanishes, so this impossibility of having a clear future. it's clear, because it's a photograph that svanishes just the sense of this anxiety that we can have for a non-solid future. But it's also a film that is done in merit, in merit of the consolidation that can be done with the past. Okay, there's a question? One more question? One more question? One more question? One more question? With the letter? Yes, I can't remember. The letter? Thank you. I'm curious. I'm curiously, I want to know what's the importance of your dialogue. Grazie. All of modernism, if you think of Virginia Woolf and Joyce or whatever, is an attempt to solve the problem of dialogue, conventional dialogue, as an inaccurate technology for representing speech. Maybe we should start with that. Una bella domanda, grazie. In which way, Virginia Woolf and Joyce are trying to solve the problem of the conventional dialogue, trying to not reintroduce it in the same way. So, to a certain degree, I think in order to be able to write a novel, I have to have a solution to the problem of dialogue. I mean, I don't know if it actually works, but it works well enough for me to write. So, for the first novel, the narrator, all the dialogue is translated from Spanish, but the narrator is always talking about how bad his Spanish is. So, the dialogue looks like a kind of conventional dialogue, but it's filtered through this very unreliable narrator. All the dialogue is in translation. And that let me write dialogue without the dialogue claiming to be an unmediated, perfect representation of speech. And in the second novel, one thing that happens is that, like, inanimate objects have speech ascribed to them. Or I just try to represent all the language that surrounds us that isn't necessarily coming out of somebody's body. Like, so, you know, it'll quote a sign on the street, and it'll put that in a dialogue. Or overheard music will be written as a line of dialogue. Just to try to indicate that there's more polyphony than just this kind of serial alternation that's in certain kinds of conventional dialogue. Yes, I think that being able to define a person who knows to write a book, I think that it would also mean to be able to solve the problem of conventional dialogue, to solve this kind of problem. I don't know if I can do it, but for me it's okay, let's say. So, in my first novel, there are dialogue, but i dialogue are in practice all of a translation from Spanish, so there's a filter from the narrator, 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 so there's a filter from the narrator romanzo, ci sono degli oggetti inanimati che parlano, che dialogano e quindi è un certo tipo di rappresentazione diversa, una rappresentazione di tutto il linguaggio che c'è attorno a noi, quindi ad esempio ci sono dei dialoghi che sono magari presi, sono magari un cartello che c'è in strada oppure una musica che si sente, tutto questo viene poi trasportato in dialogo, quindi voglio forse fare accenno a una certa polifonia, quindi non solo e anzi non assolutamente solo questa alternanza di primo personaggio e poi l'altro che dialogano tra di loro. che possono essere capta in anche molto convenzionali dialogi e la prosody di un'exchange between two people, I mean that's a really powerful way to depict the time of a relationship. You know like the most awkward moment is when you keep speaking at the same time as someone else. That's really hard to represent in a novel, but I wish there was a way to, I mean I'm sure there was a way to do that, I don't know how to do it, but none of this is prescriptive, it's not like I think like this is how one should approach dialog, this is just like the only, this is how I do it and I'm trying to write this new book and I think that I don't have an idea about how to make the dialogue work and I think that's why I don't know how to write it. And then another thing that I want to add, I want to add on to this topic, I want to simply say that in dialogue, where we try to represent naturally what is a real dialogue between two characters in reality, it's important the rhythm, the rhythm of the exchange between the characters, this is something that we perceive also within the conventional dialogue and also the force of the prosody that there is between two people who are talking about between them. And then one thing fundamental is when the dialogue is sovrapposto, when two people try to speak at the same time, this is a problem that I haven't yet been able to solve in my novels. And this, well, what I've said in reality is that it should not be understood as an obligation or a law, it's what I think in terms of this type of dialogue. And in effect it's what I'm going to do more than writing my new book now, and it's for this that I can't go so forward because I don't know well how to solve the issue of dialogue. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. La domanda riguarda la prima parte dell'intervento e riguardo quella cosa che dicevi riguardo alla poesia come fallimento, come failure, che mi è molto piaciuta. E al tempo stesso mi domandavo qual è l'equilibrio tra quest'idea di poesia come failure e l'idea della completezza, ovvero a che punto arriva il disappointment o a che punto, per converso, decidi che una poesia è conclusa. E in qualche modo ti soddisfa. The poems that matter most to me, whether through silence or fragmentation or seriality, that is, they indicate a way to go on, are poems that kind of refuse a certain kind of closure. And, you know, like Ernst Bloch, this utopian thinker, talked about open-ended myths and the need to have open-ended myths as opposed to closed myths, which he associated with regression and fascism even. And it's about a kind of orientation towards future possibility, as opposed to an idea that the poem is achieved, perfected, and because it's already perfected in the present, kind of shuts out the participation of future readers. So I think failure, in a way, the importance of failure is exactly linked up with what you're describing. It's about a rejection of closure that makes the poem a living process as opposed to a finished artifact. Una bellissima domanda, grazie. Per me, quando intendevo questo fallimento della poesia, questo fallimento vuol dire evitare una completezza che non è positiva, una completezza che non ci soddisfa. Perché per me le poesie che sono state più efficaci, quelle che mi hanno colpito maggiormente, sono quelle che non sono stabili proprio come degli oggetti, beh, in qualche maniera lo sono in ogni caso, però comunque non danno questa idea di stabilità come degli oggetti. Per me le poesie più importanti, quelle che sono di maggiore effetto, sono quelle che siano silenziose o siano frammentate o che siano seriali, quando intendo seriali vuol dire che hanno un processo di continuità, che continua appunto, sono quelle appunto che rifiutano questa chiusura. E in realtà le poesie, come viene spesso detto, devono invece presentare una certa apertura, un'apertura verso le possibilità future e queste sono possibilità ben diverse da quelle che può presentare una poesia che è stata già completata, dove si è già raggiunta la sua completezza, laddove la perfezione è già stata effettuata. Perché sono già perfetti in qualche maniera già nel presente, quindi essendo perfetti nel presente, complete nel presente, non danno la possibilità ai lettori futuri di partecipare all'interno della poesia stessa. Quindi per me la poesia deve essere un processo vivente e non un artefatto finito. Allora, una brutta domanda, questa volta non bella. Posto che esistano prodotti culturali scadenti, che però vengono apprezzati da tantissime persone, se la sente di confermare la tesi secondo cui un lettore non particolarmente interessato alla poesia riesca a riconoscerne una autenticamente brutta? Allora, una brutta domanda. In a funny way, I'm not really interested in bad poems. I'm only interested in really, really horrible poems. Right? Like merely bad poems, like kind of mediocre poems. And of course, it's not like I think I have the authority to say what's good or bad or whatever. But what's interesting is that a lot of people, no matter their level of education or familiarity with poetry, can agree on what's a truly terrible poem. So, like in the book, I talk about this guy, William McGonagall, who Wikipedia says is the worst poet in history. I don't know why, like I don't know like how this became a consensus, but the consensus is he is actually the worst poet in history. And let me do that. Beh, forse è divertente notare che io non sono così interessato nelle poesie non così belle. In realtà sono interessato nelle poesie veramente orribili, quelle veramente orribili. Certo io non sono qua in questa sede per avere l'autorità naturalmente di decidere e dire ciò che è una bella poesia, ciò che è una brutta poesia. Questo no, però è interessante vedere che molte persone, a prescindere dal loro grado di istruzione, convengano sempre sul fatto che una tale poesia sia una terribile poesia, una poesia orribile. Se pensiamo ad esempio al poeta McGonagall, McGonagall è stato definito da Wikipedia il peggiore poeta di tutta la storia. Quando you read a McGonagall poem, as you go through the poem and you kind of identify all the things that are really embarrassing about the poem, what you're also doing is identifying all the impossible demands you would make of a great poem. He wrote this elegy for a disaster and a bridge, a bridge collapsed. And the elegy is so bad, I mean it's so embarrassing, that you end up criticizing it for its failure, for all these different forms of failure. But your list of the failures in a way becomes a wish list for what the ideal poem would achieve. So there's a way in which the truly horrible poem, not just the bad poem, The truly horrible poem gives you a kind of access to your ambitions for a really great poem. So really horrible cultural objects are more interesting than just merely bad cultural objects, I think. E' interessante anche vedere che in McGonagall si riesce leggendo la poesia e leggendola bene verso per verso che si ritrovano tutti gli elementi, tutti i fattori abbastanza imbarazzanti anche di una poesia terribile perché si ritrova, vabbè, naturalmente anche tutto quello che riferisce al fatto che il poeta non è in grado poi di materializzare il desiderio di poter scrivere una bella poesia ma anche tanti altri elementi che fanno capire subito che si tratta di una poesia terribile. Se pensiamo ad una sua poesia che si riferisce a una sciagura su un fiume, in realtà la poesia è la sciagura sul ponte sul Tei vediamo subito che c'è la presentazione dell'insuccesso, del fallimento della poesia ma questo fallimento viene talmente presentato in maniera terribile che non ci riporta a quello che dovrebbe essere in realtà il suo significato primario quindi possiamo dire che è una poesia che non è cattiva ma una poesia che è veramente terribile ci dà in realtà accesso ad ambire, ad ambire, ad avere l'ambizione di una poesia che è invece una bella poesia e in realtà poi invece semplicemente le poesie non buone, le poesie brutte sono semplicemente dei prodotti culturali brutti. Se diciamo appunto che una poesia terribile ha un suo posto, una sua collocazione può essere lo stesso, può dirsi anche per un romanzo terribile? Sì, ho fatto un certo, un poesia che ci sono in un momento che è un poesio che penso che sono in un poesia che quando mi rilassero, come si sono in un poesia che quando mi rilassero, come quando mi rilassero e quindi a dire che ho tanto di come , come non ho tutti i cantieri, come non sto stai a fare cose cose che si sembrava, tutta una cosa che sono orribile cosa che mi rilassero, come si sono in un poesia immediately when you ask that very interesting question is that when I go to readings many of which are good and many of which are bad when I go to a bad poetry reading I feel like I learn something I feel like I see what the poet was trying to do and then I see how they failed to do it and when I go to a bad prose reading I'm just bored and I think it has to do I think it has to do with the assumptions about form that calling something a poem gathers the kind of social contract involved in a lot of poetry creates kind of spectacular opportunities for failure whereas a novel kind of just doesn't come together like there's something about I guess I have a feeling of the poem as the place where the language is under the most pressure and that in every particle of language is charged with meaning and that creates an almost infinite variety of opportunities for failure whereas with novels I just kind of I just kind of nod off but I'm trying to think of a truly terrible I guess also it's a truly horrible novel that could hold your attention all the way through would be a somewhat different accomplishment than a truly horrible lyric poem so there's a different relation to time I'm going to have to think about that it's a useful question I'm going to have to think about truly horrible novel like what a truly what the prose equivalent is of McGonagall because I don't I don't know well I haven't read Fifty Shades of Grey but I don't I don't think I would I mean what I really like so McGonagall wait I'm forgetting I keep forgetting that we're in Italy sorry well it's a beautiful question thank you it's a beautiful question in reality I haven't ever thought I haven't thought I haven't thought I haven't thought I've simply thought what could be a poesia really terrible and now I'm trying to see I'm trying to see in rassegna a little bit my letture what I can I'm trying to understand as a letture as a novel not so beautiful but I'm trying to I love a lot the literature contemporanea e non è che io vada in giro cercando di trovare delle poesie mal scritte no questo non è vero è solo che quando vedo leggo una poesia brutta penso alla fine di imparare qualcosa imparare qualcosa cercare di capire quello che forse non dovrei fare questo mi permette di apprendere delle cose nuove in realtà quando leggo un pezzo in prosa mal scritto quindi una brutta prosa beh semplicemente alla fine mi annoio nient'altro e non so in realtà dovrei pensarci bene perché in realtà la poesia è una forma così elevata linguistica cioè racchiude in se stessa anche diverse forme e quindi questo contratto sociale che contiene anche la poesia mi fa subito capire che una poesia è ben scritta o mal scritta e questo però non lo si ritrova all'interno di un romanzo non c'è questo tipo di contratto sociale queste convenzioni perché per la poesia troviamo la lingua di ogni verso contiene tutta la pressione che possiamo sentire a livello linguistico su quelle parole su quel verso quindi ogni singolo angolo come dice l'autore ha un suo significato particolare e quindi è esposto molto di più a un possibile fallimento e i fallimenti sono molto più riscontrabili invece per i romanzi non so dovrei pensare quali possono essere davvero i romanzi più terribili insomma davvero un romanzo terribile beh penso in ogni caso che sia diverso abbia una connotazione diversa da una poesia veramente terribile dovrei pensarci su insomma dovrei cercare di capire qual è il corrispondente nella prosa di McGonagall if I think about Fifty Shades of Grey I don't know how horrible Fifty Shades of Grey is but I feel like if I look at that book I'll just say this isn't for me this isn't alive this is a kind of sanitized it thinks it's sexually transgressive and it's just kind of corporate conventionality or whatever I haven't read the book so that's my guess right but when I read McGonagall or something like that I feel deeply implicated he's like he's trying to make me join a human community he's hailing me you know and so I'm implicated in a way that can make the failure much more profound than my just being like this book isn't for me and interestingly when I try to think of the truly horrible novels I think of truly great writers engaged in impossible projects or I think of novels that are amazing novels that are also totally ridiculous at moments like Moby Dick I mean Moby Dick is just like going off the rails at various points right or Pierre you know Melville is an example of a writer who moves between being you know his greatness is kind of caught up in the absurdity he risks in the same way like Whitman was in poetry so there's a way I think that the horrible and great writer is sometimes in the same body and the example of like really horrible novel I can think of is kind of like the failed novel of a great writer and not the like commercial machine of whoever wrote Fifty Shades of Grey And then forse 50 sfumature di grigio beh forse io a questo punto devo dire che quando si leggo o vedo 50 sfumature di grigio perché io non l'ho letto forse semplicemente dico beh non è una cosa per me non è un genere che mi interessa quindi beh parla di questo questo tipo di relazione sessuale aggressiva che comunque non non fa per me quindi è semplicemente qualcosa che non ritengo che sia adatto a quello che voglio leggere basta però se io ritorno invece a McGonagall qui vedo veramente che l'autore vuole farmi partecipare cerca di implicarmi all'interno di quello che è il racconto e in realtà non riesce a farlo se devo pensare alla sua domanda forse mi viene in mente però di rispondere quali possono essere dei romanzieri molto vari di che però si sono forse addentrati in alcune avventure un po' troppo rischiose un po' troppo forse impossibili da risolvere pensiamo ad esempio mi viene in mente Moby Dick di Melville forse anche in questo caso forse potrei dire che in alcuni punti l'autore ha rischiato un po' troppo si è addentrato un po' troppo lo stesso però possiamo dire anche in Whitman nella poesia insomma quindi quando pensiamo a questo tipo di domanda in merito ai romanzi e non alla poesia vengono più in mente forse i fallimenti i fallimenti degli autori che si sono addentrati maggiormente o troppo audacemente in alcuni punti grazie ancora al salone del libro a Sellerio e di nuovo un applauso per Ben Lerner buona serata applauso 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 Grazie a tutti.